Di come mettere una luce, tu quando metti una luce devi dare un'emozione, devi comunicare qualcosa, tu non puoi parlare e dire mentre il film è in onda guardate che bella luce che ho fatto, la finestra, c'è la tua luce, la gente deve percepire attraverso quella luce un'emozione, il momento in cui tu vedrai che la gente percepisce quello che hai fatto e si emoziona, magari neanche pensando che c'era un direttore della fotografia, ma si emoziona vedendo quel film e dicendo, bel film, hai vinto. Cioè se tu mi parli di file, di megapixel, di roba, se io li so spiegare a dei ragazzi che cosa, ma concettualmente il mio lavoro ormai è sulla luce, sulla creazione della luce quindi considero la tecnica un supporto, ma non lo considero un elemento fondamentale anche perché è in continua evoluzione, quindi se ti affezioni a una tecnica o a determinate cose devi essere al corrente di quello che succede, da domani adesso Harry ha fatto un large format, ma l'ha fatto semplicemente per controbattere il head e cosa hanno fatto? tutti fanno la stessa cosa, pigliano due sensori, li mettono assieme e hanno fatto il large format non è che hanno inventato niente, un sensore così grande non esiste, perché chi fabbrica i sensori non è una fabbrica sola. Anche perché più è grande, più è rischioso che sia… Sì, ma non esiste questa roba del… mettiamoci in testa che cazzo… a meno che tu non faccia un film e non lo fai con la red, a meno che tu non faccia un film e vai sul grande schermo, noi diamo uno dei cazzo in pali, porca troia… mandi in televisione che cosa? Anche sui computer va bene, HD, 8K… ma poi alla fine vedi delle robe grosse così, grosse così… quindi… però il large format non ti dà quella profondità di campo sul largo… sulle focali larghe? Se hai le palle lo fai anche con una 16 mm… ok… la profondità di campo non è data dalla dimensione del frame, la profondità di campo è data da come fotografi le cose… Sì, c'è anche il fatto di avere un formato più grande sicuramente ti aiuta… ma perché dovrebbe darti più profondità di campo? Diventa tutto più grande… aumenti… sì, c'è la profondità di campo, se vai sul grande schermo poi arriveremo all'enormità assoluta e poi improvvisamente… ritorneremo indietro… oggi se tu guardi non è compito mio dirlo, però l'80% dell'utenza è su schermi microscopici… televisori, i pad, il computer, i telefonini… E adesso si sta spostando tutto pure in verticale… cioè tra le tante cose… Io ho fatto… gli ultimi due anni ho fatto tutte e due le campagne mondiali di Nespresso, sono stato ad agosto a Buda per dieci giorni, ho fatto tutto un film 16 noni, un film rifatto esattamente in verticale… 9-16 noni… ho fatto esattamente in verticale… pigliavo la mini… la mettevo così… perché oltretutto l'ignoranza… ti dicono… no vabbè ma non perdiamo tempo… Nespresso non c'avevamo i soldi… eh non perdiamo tempo inutilmente qui… allora cosa facciamo… dico ragazzi, io se voi volete girare i 16 noni e croppare il fotogramma a 16 noni per fare il formato verticale… non avete capito un cazzo… perché vuol dire che si cambia in quadratura… e poi croppi… vai dentro… va bene… però… allora tutta questa ricerca della perfezione della qualità… perché avete chiamato uno che fa la fotografia… chiamate uno… fa qualsiasi cosa… ma si va… e quindi giro tutti i 16 noni… ti sei imposto sul cliente nonostante fosse Nespresso… no non è che ti imparri di… il problema è anche quello… questo è un mestiere dove la… come si dice… la personalità come ti dicevo prima è fondamentale… ma anche il tuo stato… il tuo modo di ragionare fa molto… perché se tu cerchi di essere quello che si impone perché è Luca Rovecchi della situazione o un altro della situazione diventi personaggio per 3-4 anni… la prima volta che fai una cagata ti mettono a 90 e ti fottono… se tu invece spieghi alla gente che è meglio e non sia vero che si perda tempo mettere la macchina così… ma ottieni un risultato migliore con lo stesso tempo… basta organizzarsi… la gente… dopo dici però hai ragione… magari ti richiamano anche… ah hai ragione il Rovecchi… hai fatto bene… anche perché tutte le robe in verticale… per esempio vanno nei negozi… no… prendono il televisore… prendono lo schermo… lo mettono in verticale… e tu vedi le robe verticali… o anche quadrato… no… chissà se faranno dei cinema in verticale… ma chissà se la smetteranno di fare cagate tecniche… ci si uniformerà tutti in un unico sistema… e finalmente lavoreremo tutti alla stessa maniera… no… cioè io secondo me è una follia… cioè va benissimo… è bellissimo vedere tutte queste robe… come la questione di tutte le tecniche di ripresa si è perso completamente il discorso della macchina a mano… io ai ragazzi della scuola gli ho fatto una settimana di culo così… perché gli ho detto adesso pigliate… abbiamo la Blackmagic… la Ursa 4K6… gli ho detto adesso pigliamo questa macchina… non voglio vedere attaccato niente… un rig… niente… una vite che non sia quella della macchina… l'unica cosa che vi concetto sono una piastra… due canne… e il motore dei fuochi e dei diaframmi… fine… e gli ho fatto fare una sequenza di 3 minuti macchina a mano… con la macchina così… senza utilizzare Ronin… senza utilizzare nessun tipo di stabilizzatore… niente… perché ormai il contatto con la macchina è sparito… cioè c'è sempre qualcosa che fa per te… ma cazzo… ma farti una macchina a mano… pigliarti la macchina a mano e camminare senza farla dondolare… o… l'istintività di una macchina a mano… il tempo di reazione che tu hai… cioè se tu vedi una cosa per strada… uno che sta sparando all'altro… col Ronin ora che ti giri… qui c'è il ritardo… te lo sei perso… macchina a mano immediata… è un concetto diverso… capito… e la gente… e i ragazzi queste cose qua fanno fatica a capirle… allora io li ho obbligati a fare una roba di cui adesso sono innamorati… però è molto difficile avere un registro cinematografico in tempo reale… per tutto il tempo… a camera a mano… devi sapere cosa stai facendo… è la questione… è la grande differenza che c'è tra chi fa questo mestiere a livello professionale e chi fa il videomaker… chi fa il mestiere a livello professionale ha un progetto… e quando inizia a girare il progetto è già fatto… deve solo girarlo… io vedo tanti ragazzini che entrano a scuola che si mettono a lavorare… girano… mettono una bella musica… poi montano e viene fuori un bel lavoro… perché poi hanno gusto… sanno fare le cose fatte bene… ma quando parli di contenuti… allora diventa più difficile… se tu hai dei contenuti dai quali devi passare… se devi esprimere dei concetti… devi essere bravo a scriverli… devi essere bravo a sceneggiarli… devi essere bravo a sapere come girarli… con cosa girarli… quando girarli… e come girarli… e poi devi sapere come montarli… devi sapere già che musica avrai… quindi c'è tutto un lavoro di preparazione… che la tecnologia di oggi ti invita a non avere… perché tanto sei coperto… perché bene o male l'attitudine di oggi è quella di girare abbastanza… l'attitudine di oggi è quella di girare abbastanza velocemente le cose… e poi metterle insieme… cercare di farle funzionare… perché comunque lo vedi… si prende la camera… esci… vai fuori… fai riflessione… al di là del fatto che magari… è una commissione che devi consegnare domattina… però… voglio dire… il vero esercizio per non dimenticarsi che stai comunque facendo cinema… che resta comunque la forma d'arte… è quella di pensare… ragionare… scrivere… da avere qualcosa da dire… perché… filmare per filmare… senza senso… lo può fare neanche… uno che non ha mai filmato niente con un telefonino… ci sarà del suo… del personale anche in quello… però… alla fine… noi non siamo qui per fare quello… però… una cosa che manca tanto ai videomaker… che poi diventano DOP di oggi… è tutto quel bagaglio artistico della storia dell'arte… questa è una cosa che io… ma lì subentra una questione di cultura personale… lì è come la gente che non ama leggere… è la gente che legge… sostanzialmente la gente che legge probabilmente ha più possibilità di immaginarsi delle cose… perché ha una… una testa allenata… va a figurare… le cose… per esempio quando tu leggi un libro… succede sempre… io quando leggo un libro… leggo le righe in maniera automatica… assimilo quello che c'è scritto… ma nella realtà… mi costruisco delle fotografie della scena… la ragazza uscì dalla porta e si trovava al mare con un vento forte… gli aghi di pino che arrivavano sul viso… e tu ti immagini quale mare… quale spiaggia… com'è la spiaggia scura… chiara… il tempo era bello… era brutto… la casa aveva una porta di legno… una serie di dettagli… l'allenamento viene immaginandosi… figurandosi immediatamente quella scena… è lì che viene fuori il concetto poi anche della creatività… della personalità di ognuno di noi… devi passare attraverso questo tipo di esperienze… devi ragionarci sopra… devi abituarti a figurare le cose… immaginartele… per poi poterle scrivere tu… quindi autore della fotografia… è anche in questo senso… autore della fotografia… è un termine che non amo… è stato inventato da Storaro… perché ha bisogno di essere un pochino più altisonante rispetto ai direttori della fotografia… ma la sua personalità… l'abbiamo perdonato per i lavori che ha fatto… perché ha fatto delle cose bellissime… anche non bellissime… però nulla da dire… tecnicamente è un grandissimo… per cui… poi… se vedi le sue interviste… dice delle cose molto interessanti… ma le dice in una maniera che forse… ma personalmente non approvo… nel senso che… si tirano molto in lungo determinate cose… però… autore della fotografia… sì… ma se vogliamo chiamarci autore… pittori della pellicola… vogliamo chiamarci… siamo del direttore della fotografia… Tonino De Licolli era un direttore della fotografia… gente che è cresciuta nella Roma più selvaggia… che aveva un istinto particolare per fare determinate cose… si è messa lì… si è messa a fare il direttore della fotografia… era il loro lavoro… era il destino che lo facessero… era la gente che più di tanto non sapeva… ma appena accendeva la luce… sapeva dove metterla… ho intervistato Tovoli e Nannuzzi… di recente… mi hanno raccontato un po' la loro storia… il loro approccio… Tovoli rimpiange molto i bruti… che oggi sono… ma si ma ognuno di noi rimpiange… magari tu rimpiangi una vecchia fidanzata… la vita è fatta dei rimpianti… meno male che ci sono dei rimpianti… vuol dire che qualcosa abbiamo fatto… per cui… anch'io rimpiango certe luci… per esempio… sono andato a fare un lavoro in Lituania e mi hanno tirato fuori gli archi che erano delle luci che non si vedevano più… col carbone che bruciava dentro… i carboncini con gli elettrodi… quindi… diciamo che… lì ho visto che avevano queste cose… ho detto ragazzi posso usare questi… mi ho detto sì sì ma non li vuole usare nessuno… perché sono difficili… e allora mi hanno detto guarda se vuoi utilizzare queste luci però dovevo chiamare un vecchio elettricista che è l'unico che li sa usare… perché gli archi avevano questi due carboni che lentamente si consumavano… e l'elettricista doveva tenere sempre la distanza uguale per sennò cambiare la temperatura e colore della luce… quindi mi è arrivato questo elettricista che aveva 74 anni… era già in pensione ma era venuto solo per mettersi con il lentino e guardare dentro la… guardare dentro la… la cassa della luce per vedere i due carboni se erano sempre a distanza esatto… è chiaro che rimpiangi quelle cose… al di là del romanticismo che è bellissimo usare cose vecchie… però sono cose che avevano una… un loro perché ma ce l'avrebbero ancora probabilmente… adesso si usano i neon… si usano gli skype panel bellissimi… comodissimi… fai delle robe fantastiche… quando sono stato in aria a vedere la dimostrazione degli skype panel nuovi che fanno tutti gli effetti… l'effetto fuoco… polizia… polizia americana… polizia italiana… nuvole candela… sì sì esatto… voglio dire… madonna mia… una volta ci volevano 20 persone e un giorno di prova… adesso ti imposti… però è… come dire… abbiamo perso un po' l'artigianalità di questa cosa… ma l'artigianalità non è soltanto un fatto romantico… l'artigianalità di fare questo tipo di cose costruendole al momento ti dà anche l'unicità di quella cosa… è stato qua di recente un macchinista… un caporeparto un po' old school che ha detto che… cioè tipo dieci anni fa… venti anni fa non esisteva dire questo non si può fare… ok… mettevano giù due traverse… sì… erano dei massacri… e si faceva in un modo o nell'altro ma si faceva… oggi… io quando ho iniziato… ho iniziato veramente presto… ho 17 anni… 18 anni perché comunque dovevo lavorare… poi avevo una passione per questa roba qua… ma io ero… i primi 5-6 anni del mio lavoro ero affascinato più dagli elettricisti, dai macchinisti che dal regista o dal direttore della fotografia anche se già lavoravo portando le casse delle pellicole dei magazzini dell'Arri e queste cose… perché vedevo una sorta di genialità nel lavoro dei macchinisti ed elettricisti che era unica… alla fine tutti li consideravano dei manovali… gente che veniva col martello, coi chiodi… quindi nella gerarchia della troupe questi erano un po' i poveracci… quelli che si facevano il culo… manovalanza… quindi non so… c'era una sorta di muro in mezzo tra la parte pensante che erano i registi, i produttori, il direttore della fotografia e poi la troupe dagli autisti ai macchinisti… e quindi a un certo punto io mi trovavo più a guardare loro perché quando per esempio mi ricordo una volta che andavamo a girare un film in un bosco e ci voleva un carrello che era lungo 15 metri, questi in un bosco con la pendenza avevano fatto una… avevano costruito un ponteggio con tutte le cantinelle, si era messi lì, avevano fatto un lavoro straordinario, perfetto e sembrava quasi una scultura, cioè in mezzo a questo bosco avevano fatto questa… oggi le chiamerebbero installazioni, non so, la strada del mobile sarebbe un'installazione, questi si erano fatti un mazzo così sotto la pioggia e avevano fatto tutta questa installazione in mezzo al bosco e io ero affascinato da questa roba qua, cioè per me il cinema era fatto di quelle cose, è successo anche andare a Cinecità e vedere dove fanno le scenografie, cioè vai lì e capisci perché uno poi quando inizia a fare questo lavoro è come se fosse tossicodipendente di eroina e non smette più, perché è un bel lavoro. Io so che in Sardegna tante strade sono state fatte per il cinema, per portare delle attrezzature e quindi lì proprio mi era scoccata l'amore per tutto quello che sta dietro il cinema, quello che… caspita fa anche le strade per… Vabbè ma sai col cinema sono state fatte un sacco di cose che magari probabilmente non sarebbero mai state fatte se non fosse stato diventato il cinema, quindi il cinema di fatto non è soltanto un mestiere che fa passare la pellicola o in prima dei file digitali, il cinema è un pezzo di storia, di cultura, c'è dentro sofferenza, c'è gioia, sono nate storie d'amore, c'è un romanticismo all'interno della storia del cinema che è pazzesco, se tu vai a leggere i libri storici del cinema non quelli dove ti parlano dei grandi registi, queste cose, ma i libri in generale che si trovano facilmente, che parlano della storia del cinema ed sono narrazioni fatte ad episodi perché non c'è mai una storia così lunga da raccontare, si racconta sempre per testimonianza di qualcuno, queste storie che venivano raccontate ti raccontavano come era il cinema ed era secondo me quello che è tuttora miracoloso è come e quanto sia precario questo mestiere, perché questo è un mestiere di una precarietà assoluta, noi stiamo lavorando con delle tecnologie spaventose dove ci sono ricerche, miliardi di euro spesi per fare ricerca, per ottenere determinate cose e poi alla fine è un lavoro artigianale, alla fine se non c'è un pezzo di scotch per attaccare questa cantinella non l'attacchi, la radice è prepotentemente forte in questo mestiere, quindi la radice è una matrice fisica, materiale, molto semplice, molto rudimentale che però è quella da cui è nato tutto ed è quello che purtroppo si va un po' perdendo, più si va avanti con la tecnologia e più si abbandona il rapporto con questo lavoro e ci si affida alla tecnologia come sistema per realizzare qualcosa, che va bene ma non è la strada, ma quella non è la strada, perché tu per costruire una tecnologia e per realizzare qualcosa attraverso la tecnologia vuol dire che ti stai già affidando a qualcun altro, a qualcosa, è giusto che ci siano le macchine 4K, 6K, 8K, che ci siano gli zoom, le ottiche super luminose, che ci siano i Ronin, che ci sia tutto quello che vuoi, però alla fine questa roba bisogna saperla usare. Però il Bolt ha segnato una bella spaccatura tra il prima e il dopo nel tuo mestiere. Assolutamente, il Bolt è stato un momento di panico per tutti perché a quel punto sono saltati quelli che erano i parametri del table top, quindi del food, di tutto questo sistema di altissima specializzazione che ti porta a fare delle immagini particolari e siccome sono immagini che devono molto semplicemente attraverso una descrizione irreale di una cosa, perché tu mostri un movimento di una macchina o mostri dei liquidi o delle cose che si muovono e vengono fotografate in una maniera che l'occhio umano non può vedere, perché l'occhio umano non è così veloce per fare le cose come le fa al Bolt e quindi la vera sorpresa sta proprio nel fatto di avere di fronte un'immagine innaturale che tu non puoi al momento capire, ma ci arrivi dopo rivedendo questa sequenza magari 4, 5, 6 volte e ne rimani meravigliato. Però questa cosa comunque non funziona se non c'è l'intervento umano. Io ho girato settimana scorsa, ho fatto un lavoro due giorni col Bolt e le cose si sono risolte, perché il movimento fine a se stesso, il sincrono, la macchina, il getto, la cosa, l'acqua che cade o la frutta che attraversa il latte va benissimo, ma ci deve essere qualcuno che alla fine dà il colpo, ti fa saltare le cose, cioè c'è sempre inevitabilmente un richiamo all'artigianalità. Questo è sempre più evidente quindi che la tecnologia deve essere semplicemente al servizio, tu non puoi essere servito dalla tecnologia. Noi dobbiamo utilizzare la tecnologia per quello che ci serve ma evitare con grande cura di disimparare a essere artigiani del nostro mestiere. Mi fa piacere parlare di queste cose perché queste chiacchierate stanno diventando un po' un punto di riferimento per tutte le nuove leve e quindi sono sicuramente stimoli a riprendere in mano certe cose. Io vedo, guarda, la mia esperienza è vero mai, ho 63 anni, non so quanto tempo andrò avanti ancora a lavorare, finché mi regge il fisico, finché avrò voglia, quando sarò stufo andrò a vedere i cantieri della metropolitana sicuramente perché trovo che la figura dell'Umarell a Milano sia fantastica. No, ma al di là di questo, prima quando accennavo le questioni della scuola, del centro sperimentale o anche della scuola civica che sono due scuole di Milano dove si insegna seriamente del cinema o della fotografia o del montaggio, la cosa che è molto interessante è il fatto che quando tu porti, soprattutto nel mio caso che sono considerato uno oramai datato o un anziano del nostro mestiere, non so come dirlo, ma non mi frega un cazzo però. Un old schooler. Un old schooler, esatto. Quando tu porti le tue esperienze ai ragazzi giovani che hanno 19 anni perché sono appena usciti dal liceo, all'inizio io pensavo che ci sarebbe stata una grandissima difficoltà nel comunicare con loro la positività di un'esperienza come quella di conoscere le cose vecchie o conoscere le cose di una volta del nostro mestiere. Pensavo che sarebbe stato molto più difficile semplicemente perché l'immediatezza del pensiero di un ragazzo di 18-19 anni che ha una passione per la fotografia o per i film si ritrova molto facilmente appunto su YouTube o sui social o su dei canali dove le cose vengono bruciate molto rapidamente, dove le cose vengono create e bruciate molto rapidamente per essere poi quasi dimenticate nel giro di pochi mesi perché fra sei mesi questa cosa è già vecchia se ce ne sono altre e quindi ho detto sarà molto difficile per me portare avanti un percorso didattico che abbia un senso logico quantomeno un percorso didattico che possa essere interessante che richiami l'attenzione e che gli stimoli perché purtroppo oggi i ragazzi di 18-19 anni hanno una soglia di interesse molto bassa, hanno dei picchi altissimi e immediatamente cade per passare ad altro cioè tu lo vedi anche su come si guarda un social su un telefonino se tu vai alla metropolitana la mattina guardi la gente al posto di guardare anche tu il telefonino guardi la gente che è una delle cose più belle che puoi fare, ascolti anche i discorsi della gente ti rendi conto di questa cosa. Io ho fatto una ricerca con due ragazzi della scuola che sono molto bravi che sono usciti l'anno scorso abbiamo fatto tutta la ricerca su Instagram sulla comunicazione di Instagram in pubblicità e non e alla fine scaricando centinaia e centinaia di dati interessantissimi di questa cosa abbiamo costruito come dei grafici che ci hanno un po' ricostruito quella che è l'andamento della soglia di attenzione di chi guarda Instagram per un'età media e la soglia di attenzione è 4 secondi è molto difficile che uno si fermi più di 4 secondi su un post a meno che non abbia scritto qualcosa in maniera lunga o un post o un film o un filmato che abbia la durata di 10-15 secondi perché la gente sfoglia quindi usufruisce di una cosa ma non la considera sceglie quello che c'è e poi va e quindi questa cosa ci ha fatto pensare ho detto cavolo qui viene fuori in maniera molto evidente la strada da utilizzare per insegnare qualcosa a qualcuno per uno della mia età io non posso andare a insegnare quella cosa perché non mi appartiene ma non mi apparterrà mai anche se mi ci metto e faccio di suo ebrigo ma alla fine è una cosa che generazionalmente non mi appartiene ma non mi appartiene come costume non mi appartiene proprio in nessuna maniera quindi ho cercato di riportare le lezioni che io faccio che poi non sono neanche delle lezioni sono delle giornate che passiamo insieme in cui si fanno esperienze ho cercato di riportare i ragazzi a ricostruire in maniera molto primitiva il percorso del vecchio cinema quindi costruendo la scenografia facendo la macchina a mano solo con la macchina senza nient'altro se non la macchina nessun rig niente che fosse costruito intorno evitando di girare delle cose in modo improvvisato ho sempre detto benissimo vogliamo girare cosa vogliamo fare facciamo l'altro giorno detto voglio fare dei ritratti ok facciamo dei ritratti fotografie in bianco e nero riprendiamo dei ritratti in bianco e nero ognuno di voi deve riprendere un compagno si sceglie un compagno e lo riprende però deve scrivere su un foglio prima deve presentarmi un documento nel quale da una visione della personalità del suo compagno prege i difetti o lo descrive anche per delle cose fisiche che lo fanno ridere o che lo intristiscono e deve essere in grado di riprodurre all'interno di questo ritratto in qualsiasi maniera filmato riprodurre in maniera coerente la persona che lui la personalità della persona che lui ha ripreso ok è un bel esercizio è un bel esercizio perché in realtà non è che dice ah fammi della primavera beh esci c'è verde c'è il sole luce in macchina il fleur l'era figata la primavera è fatta però metti davanti uno seduto lo puoi fare seduto lo puoi fare in piedi lo puoi fare mentre bevi il caffè la macchinetta cioè qualsiasi cosa andava bene però volevo che ci fosse comunque un progetto a monte un progetto adesso abbiamo scomodato una parola grossa progetto che ci fosse un una ragione per cui la ripresa che lui stava facendo avesse una motivazione cioè dimmi perché stai facendo questa cosa ed è stato interessante perché alla fine un po' giocando a biliardo un po' di sponda un po' il colpo da dietro però alla fine sono venute fuori delle cose interessanti sono delle persone che venivano riprese fisse immobili senza parlare con uno zoom lentissimo ad avvicinarsi c'erano altri invece che venivano ripresi nei momenti qui non volevano essere ripresi perché una personalità di un certo tipo alla fine mi sono reso conto che tutto questo percorso che abbiamo fatto di ricostruzione e di progettualità anche di una cosa piccola e banale li aveva molto interessati hanno speso del tempo per pensare prima come fare una cosa ed erano molto contenti alla fine hanno fatto questi ritrati sono molto belli ed erano molto contenti quindi per loro è stata un'esperienza nuova ma tu hai proprio sotto mano tante giovani personalità e io mi immagino pure che riceverai tante reel da qualcuna che vuole collaborare con te o che vuole una tua opinione sul suo operato e quindi ti chiedo che cosa guardi per trovare il talento di un della fotografia sia in uno giovane che in uno che ti manda una reel cos'è quella cosa che ti fa dire va che talento se c'è beh innanzitutto il talento lo vedi subito se questa persona non ha fatto una color di quelle toste modaiole cioè se uno ha il coraggio di proporre una cosa in assoluta semplicità fatta con una buona tecnica e con criterio lo valuto molto più positivamente di uno che ha fatto un super film con ottiche particolari high speed bolt oppure ma è rarissimo che succeda o magari con un telecine una scusate rifugio della vecchia generazione una color altisonante ma a parte che io non ricevo ridi di gente che vuole sì magari qualcuno mi chiede dei pareri ma posso dare la mia opinione la mia opinione l'opinione di uno che ha fatto questo mestiere che ha avuto un buon successo che ha lavorato tanti anni che avrebbe potuto fare meglio ma non c'è riuscito quindi posso dare dei consigli posso dire guarda secondo me questo direi che invece è molto più importante quando riesce a valutare uno sul lavoro in scuola per esempio alla fine del secondo anno quando inizia il terzo anno la scuola delle commissioni che vengono dall'esterno cioè dei lavori che vengono magari commissionati da regione lombardia o comune di milano insomma sono un po' di cose che arrivano quindi per la prima volta i ragazzi hanno di fronte una committenza hanno di fronte una un cliente che ti dice io ho bisogno di fare questa cosa quindi tu devi scrivere la storia devi innanzitutto parlare col cliente capire qual è il focus della sua ricerca e inizia un processo di creazione di questi film che loro ti comandano in questo caso è facile capire chi ha talento in questo caso è facile capire chi ha talento perché se tu lavori con un direttore della fotografia della scuola e vedi che lo aiuti cioè assisti alla riprese condividi il progetto vedi come lo imposta vedi quali sono le sue paure vedi quali cominciano a farti delle domande ma se facciamo così però non so ma che cosa potrei utilizzare è lì che vedi se veramente uno la stoffa perché vedere un'immagine così non vai sul computer fai qualsiasi cosa una color photoshop metti insieme un montaggio figo una musica la gente dice bellissimo poi però stringi sotto non c'è nulla quindi invece se tu vedi il processo di creazione del del flusso di lavoro che questa persona che vuol fare il direttore della fotografia ha con se stesso prima di tutto ma soprattutto ma soprattutto ed è questa la cosa su cui io insisto sempre ma soprattutto con il resto della troupe cioè quanto sia bravo interfacciarsi con il regista quanto sia bravo ad ascoltare il regista consigliarlo nei momenti in cui il regista magari ha delle difficoltà senza prevaricarne il lavoro quanto riesce a controllare la propria personalità magari esuberanza queste cose sul set cercando di fare in modo che la sua presenza sia una presenza costruttiva non distruttiva quanto riesca a parlare col produttore quanto riesca a essere amichevole comprensivo e chiaro con chi lavora insieme a lui tipo elettricisti macchinisti cioè è lì che viene fuori la stoffa perché tu puoi essere un bravissimo direttore della fotografia ma se sei una bestia caratteriale abbiamo avuto centinaia e centinaia di casi nel nostro mestiere di questo tipo e non sai comunicare con la gente sei fuori sei tagliato fuori sei tagliato fuori quindi il momento in cui non un direttore della fotografia eccelso un genio della fotografia ma un buon direttore della fotografia ha la capacità di amministrare il set e di riuscire a portarsi a casa al lavoro anche nelle situazioni più difficili impreviste drammatiche semplicemente perché ha talento nella gestione del lavoro quello è un direttore della fotografia super ecco perché è così difficile inserirsi nel mercato della fiducia perché siamo alla della pubblicità in generale sono due mondi molto diversi pubblicità e cinema sono due binari paralleli che è difficile che si intersechino perché hanno provenienze differenti mercati differenti utenze finali differenti e quindi insomma io ho fatto un film per lo yogurt settimana scorsa c'è cadere la frutta nello yogurt insomma bello per mio passiono perché è il mio lavoro ma non penso che sia la cosa migliore della vita anzi ringraziamo il cielo che qualcuno mi fa fare queste cose no cioè fai questo lavoro fai delle robe tipo la birra che vola che si incontra qui con il luppolo e si scontrano bellissimo però magari ognuno di noi ha ambizioni differenti è un mestiere è un mestiere come tanti altri avresti voluto lavorare più nel mondo del cinema piuttosto che quello dei commerciali no 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 rimpianti quello che ho fatto evidentemente è stata la cosa che potevo fare va bene così c'è qualcosa che dici questo è difficile cioè quando mi capita soffro ce la faccio però mi insega è difficile o che lo senti tu sì ma non è tecnica non è una cosa tecnica trovo che la io soffro molto la quella cosa più difficile per me sono i rapporti sul set con la gente i rapporti prima dello shooting con le agenzie con il cliente sono momenti difficili perché devi riuscire a trovare il sistema di essere sufficientemente diplomatico devi essere intelligente devi capire che cosa ha bisogno un cliente nel contempo devi essere molto attento a quali sono le esigenze creative dell'agenzia perché non sei tu che fa la creatività ma sono loro che fanno la creatività molto spesso ti viene chiesto di dare un supporto alla creatività attraverso la tua creatività o la tua tecnica attraverso proposte tecniche che aumentino quello che un creativo ha scritto come storia e oggi come oggi questo processo è un processo molto difficile molto duro c'è una grandissima competizione è un momento economico di un paese che va abbastanza male inutile negarlo no l'economia italiana non è un'economia di primo livello quindi è un mercato che un paese che soffre per un'economia che non va e l'economia se non va anche le industrie o le piccole aziende soffrono quindi ci sono problemi di denaro ci sono problemi di budget ci sono problemi di tempi di lavoro non c'è budget non c'è mai budget quindi tutta questa cosa provoca una contrazione dei rapporti di lavoro perché tutti disperatamente cercano di portare a casa quello che devono fare ma nel contempo tutti hanno il terrore di non riuscirci quindi il concetto di morte tua vita mea permettimi questa cosa è un po alla base di tutto è molto difficile trovare ultimamente collaborazione e quando ci sono delle difficoltà appena ci sono delle difficoltà un po per natura dell'essere umano si cerca sempre di scaricare un po di no le cose che puzzano le butti fuori da casa tua e tu cerchi di fare il tuo bello orticello in realtà non è così non è per niente così ci abbignarebbe essere più coraggiosi a volte si può essere coraggiosi a volte non si può essere coraggiosi per cui è ovvio che la cosa più difficile sono i rapporti umani tecnicamente no tecnicamente se tu hai una buona esperienza se vieni da una vita professionale nella quale hai lavorato con dignità e con serietà le cose si risolvono sempre quando non si possono risolvere si dice che non si possono fare le nozze coi fichi secchi non si fanno quante volte mi sono arrivati dei progetti ultimamente in cui ci volevano tre giorni per fare otto inquadrature nove inquadrature perché erano spaventose erano impressionanti erano difficilissime e io ho detto signori questa roba in tre giorni io non la faccio perché se dici sì poi dopo fai fare gli straordinari alla casa di produzione allora sei stato tu che non sei stato in grado di portare a casa cioè tutto quello che guadagni in quel lavoro lo perdi poi in credibilità successivamente invece di essere un po come un buon padre no devi dire guarda che secondo me questa roba qua meglio di no poi se il produttore si vuole buttare dalla finestra io dici guarda io alle sette domani sera io non ho finito te lo dico io vado a mezzogiorno però poi non mi dire che è colpa mia allora su ti dice no ma andiamo facciamo poi su sette c'hai il cane che ti morde qua no c'è la tensione le facce appese oddio le tensioni e lì tu dici con grande sanità signor io ve l'avevo detto io ho sentito un'intervista di agostino castiglioni che tra l'altro mi ha già detto che lo potrò intervistare è stato un mio collega è stato un direttore della fotografia veramente in gamba molto io l'apprezzo molto e infatti non vedo l'ora è una cosa che diceva lui che un po di tempo fa quando si pianificavano i progetti c'era un giorno jolly un giorno di sperimentazione ok giocate poi uno due giorni di pre-write e poi si andava in shooting oggi non è esattamente così allora quello io lavoro tantissimo nel food e quindi lavoro spesso in teatro con la phantom con il bolt con tutte queste cose e adesso si chiama giorno di test a secondo della struttura dove vai a lavorare e a secondo dei giorni di lavoro che devi fare del budget nei preventivi le strutture in cerca di inserirti sempre un giorno di test perché è fondamentale che questo ci sia perché la struttura stessa ha bisogno ha bisogno di provare determinate cose perché se non le prova rischia poi lei stessa di essere in danno o trovarsi a doversi giustificare il giorno dello shooting dicendo non riusciamo a fare questa cosa per dirti una stupidaggine se devi fare questa bottiglietta che rovescia l'acqua nel contempo il bicchiere si avvicina e poi si girano sotto sopra hai bisogno di usare per esempio il motion mover sono due bracci il bolt è un altro per fare questa cosa tu devi testare nel tabletop e questa cosa l'hanno capita in pochi non può inventarti le cose il giorno in cui tu arrivi sul set cioè io posso dire a uno specialista degli effetti speciali di guarda che io bisogna di fare questa cosa gli faccio vedere progetto glielo spiego ci si vede si incontra si beve una birra assieme si parla del progetto e lui dice sì allora ho bisogno di provare devo mettermi lì e provare testare questo è un costo se tu hai un buon rapporto con una casa di un centro specializzato di realizzazione di questi filmati di tabletop magari questo te lo includono a un costo x nel preventivo però tu arrivi sul set con il meccanismo già fatto che vuol dire che arrivi alla mattina sul set attacchi la macchina fai due o tre prove se tutto funziona se la notte non ci sono stati dei disegni occulti che ti impediscono di fare le cose arrivi la mattina e bene o male insomma la giri è sempre un mestiere molto difficile sempre molto complicato si fa milano sono poche le strutture dove puoi lavorare seriamente movie chrome ha definito movie chrome è una struttura di di nuova data che ha iniziato come come noleggio hanno fatto un po' di anni iniziando così a noleggiare le cose con lo studio il teatro e poi hanno cominciato a specializzarsi proprio si a esplorare altri orizzonti adesso hanno delle persone che fanno effetti speciali si muovono sul mercato come si muovono gli altri poi c'è la 360 fx di antonella scogliero con altra struttura iper affidabile con persone tecniche che persone che tecnicamente sanno il loro mestiere insomma ce ne sono c'è Dario cattadori con table spot poi c'è credo che ci sia la gandola con zero insomma stanno nascendo delle realtà è chiaro che non basta fare un investimento tecnico cioè l'investimento tecnico lo può fare chiunque se tu hai un del denaro o puoi andare in banca chiedere soldi ti compri il bolt la phantom 18 sky panel quello che ti serve noleggi uno studio ti metti dentro quello che fa la diversità tra uno studio di table top e un altro sono le persone che ci lavorano dentro certo ma a partire dal direttore di produzione al produttore a chi risponde al telefono come sempre e io insisto nel dirlo che l'aspetto umano di qualsiasi attività di qualsiasi azienda è il primo che bisogna tenere in considerazione cioè è assolutamente l'aspetto più fondamentale non bisogna essere dei talenti per essere no non te cioè se domani io mi compro il bolt e compro tremila robe non saprei usarlo cioè io ho bisogno di qualcuno che lo usi no ho bisogno di un producer che contatta le agenzie presenta il mio show reel cioè ci sono delle cose che secondo me non possono essere bypassate dalla tecnica per quello che dico alla fine l'artigianalità del nostro mestiere cioè se tu è un bravo producer che è capace di vendere anche la carta straccia lavorerai tantissimo se hai un producer di quelli con la puzza sotto il naso che contatta solo i clienti di un certo tipo le agenzie di un certo tipo e non è in grado di sostenere il rapporto in una certa maniera può essere la persona perfetta ma non ti porterà mai a casa un lavoro senti come come si affrontano i progetti dove non sei sicuro al cento per cento di quello che stai facendo però sai che possono essere delle buone occasioni per imparare qualcosa di nuovo e quindi c'è il rischio ogni progetto è ogni progetto è un'occasione per imparare qualcosa di nuovo nel senso che c'è allora in genere quando ti arriva un progetto tu hai un documento dell'agenzia in cui ti viene spiegato esattamente quello che loro vogliono e che cosa ha bisogno al cliente quali sono le caratteristiche del prodotto e qual è il focus finale l'idea creativa è quella attraverso la quale tu devi passare cioè non puoi stravolgere l'idea creativa non puoi tantomeno cercare di cambiarla perché non sai se una sfumatura che ti appare molto semplice nella scrittura di questa creatività nasconde in realtà un problema aziendale che è legato al fatto che non hanno venduto non vogliono vendere quindi bisogna stare molto attenti a diventare creativi cioè il regista deve essere creativo ma deve essere creativo dalla parte tecnica e soprattutto deve essere creativo nel momento in cui viene autorizzato a muoversi in una certa maniera quindi quando affronti un problema quando affronti una produzione quando ci sono delle cose che ti sembrano particolarmente difficili o delle cose che dici orca miseria questa qui come possiamo farla come dici tu giustamente l'aspetto è proviamo a fare una cosa nuova vediamo se ci riesce è molto difficile perché è stato fatto quasi tutto quella tecnologia che abbiamo adesso bene o male sì domani uscirà un nuovo sistema un braccio che farà altre cose una macchina che non avrà più bisogno per girare a 2000 fotogrammi di 200 kilowatt di luce e allora si cambierà tutto di nuovo la tecnologia si evolve in modo parallelo al nostro modo di ragionare sul nostro lavoro ma per riuscire a fare qualcosa e imparare qualcosa devi avere il coraggio di spingerti sempre un passettino più in là rispetto a quello che tu sai fare che non è facile perché molto spesso oggi questa cosa significa far spendere i soldi a chi produce il film però concettualmente il coraggio di riuscire a fare una cosa non troppo ragionata e non esattamente come avevi in mente ma trovando all'ultimo momento anche un piccolo dettaglio che ti porti fuori da quello che era il ragionamento iniziale già quello è un progresso che ti segni nella testa non è che c'è il blocchetto ti segni questa cosa te la tieni buona e sai che la prossima volta appunto probabilmente quello che hai imparato quel giorno sarà la cosa giusta per fare un'altra cosa d'altronde non si può pensare di aver imparato tutto bellissima chiacchierata ci avviciniamo verso la fine tranquillo tu segui un preciso processo creativo quando vuoi spingerti un po' più in là su un tuo progetto cioè ci sono dei passaggi che segui quando devi fare la fotografia di una scena che ti portano più in là rispetto a una fotografia standard no perché almeno io personalmente sono sempre stato molto istintivo io parto da un concetto che la prima luce che ti viene in mente da fare su un set o in un posto è quella giusta la scarti sempre ci giri in giro vai, fai, dis, sui brighi, cominci a ragionare, porti, metti, accendi, spegni, sposti poi alla fine per un qualche cavolo di sistema non si sa per quale è alchimia ritorni sempre a quel punto quindi in realtà la creatività nel momento in cui tu parti con un nuovo progetto è fondamentale perché devi cercare di pensare a delle cose adesso io ho un progetto abbastanza grosso e importante per un liquore l'idea creativa è molto complessa, è molto difficile perché viene articolata in due maniere diverse che si devono alla fine incontrare, congiungere ed esprimere lo stesso concetto quindi è un lavoro molto difficile perché l'input creativo che ci è stato dato è molto definito, molto preciso, con una musica già definita quindi lo spazio è poco nel senso che è un film talmente complesso che se solo cerchi di uscire un po' da quello che è l'idea creativa dell'agenzia rischi di andare fuori strada e di sbagliare il progetto anche soltanto scrivendo il trattamento quindi però non so, la creatività, cioè ci si pensa, si pensa al progetto, si comincia a ragionare ci si mette lì, ci si spacca la testa e poi alla fine vengono fuori delle piccole idee a volte proprio quando ti sembra che non ce ne sia più, che oramai sei svuotato vai a letto, a me è successo un sacco di volte, magari mi sveglio alle 5 del mattino perché non ho più sonno mi metto di tranquillo e a mente fresca tu mi viene in mente una cosa e dico e allora te la scrivi su un foglietto, io sono comodino, sembrerà una roba da pazzi ma ho un foglietto, un bloc note con la matita e io quando mi vengo in mente delle cose me le scrivo perché se no poi il giorno dopo magari me le sono dimenticate e quello è il processo creativo cioè non esiste una tecnica per creare un processo creativo che ti aiuti a sviluppare al meglio fare una nuova esperienza, un progetto, esiste un percorso di ragionamento tortuoso come quando devi lasciare una fidanzata che comincia a dire oddio mio no forse sbaglio però porca miseria no ma non se lo merita no però sono uno stronzo io, comincia a fare tutta una serie di ragionamenti col lavoro è la stessa cosa e poi alla fine dici ma no vabbè alla fine però io con questa qua sto bene e allora tu dici no vabbè ma questa storia qua funziona adesso vediamo magari di ragionare in un'altra maniera, cominci a fare un ragionamento tecnico, lasci stare tutti i pensieri che hai avuto, cominci a ragionare e poi mentre cominci a rimettere ordine arrivano le cose. Faccio un esempio sui testi di De Gregori, ho sentito, non c'entra niente con la fotografia però a livello di processo creativo, diceva che lui scrive il testo, ok, e poi corregge le parole in base al loro suono al di là del loro significato, no? Quindi le sue canzoni funzionano perché sono musicali, perché lui ha dato una bella piallata sul contenuto intrinseco delle parole e ha utilizzato delle parole che funzionano messe insieme, capito? E questo è un processo creativo che dà una direzione ai suoi. Sì ma allora come direttore alla fotografia, al processo creativo c'è la grande differenza tra uno che scrive una canzone e uno che fa le luci in un film o in una pubblicità o qualsiasi altra cosa, è che generalmente chi scrive una canzone ha molto tempo per farlo e quindi la differenza sostanziale sta nel fatto che il ragionamento attraverso il quale tu arrivi al perfezionamento della tua idea creativa musicale e o semplicemente di parole ha il tempo per poter essere sviluppata. Noi non ce l'abbiamo più. A noi viene chiesto come i creativi delle agenzie, stessa cosa, di produrre un'idea creativa ora. Io devo pubblicizzare questa bottiglietta, devo avere un'idea, io adesso vengo pagato per tirare fuori dal cranio un'idea, non è semplice. Cioè la creatività non è una cosa che compri nel mercato, la creatività è l'insieme di una serie di processi chimici che avvengono nel tuo cervello, che vengono supportati da un pensiero, che vengono supportati da un bagagliaio culturale che hai, che vengono supportati da uno stato emozionale emotivo che hai in quel momento e quindi quando tutte queste cose convergono per una questione proprio chimica nel punto giusto, al momento giusto, hai un'idea creativa e lo fai. E non è facile. Non è facile. Se io domani, ma quante volte io ricevo dei progetti in cui mi dicono, ora c'è da fare questa cosa, questa è l'idea creativa, ho bisogno del trattamento per domani. E trattamento cosa fai? Prendi i vecchi trattamenti, tiri fuori delle frasi che funzionano per questione, ma lo fanno tutti, non ho vergogna di dirlo, lo facciamo tutti, ma anche i creativi fanno queste che tirano fuori delle vecchie idee. Perché non è possibile essere creativi 24 ore al giorno, non siamo un lavasecco a gettoni, la creatività non è un lavasecco a gettoni, ha bisogno di essere coltivata, sia dal punto di vista del lavoro dei creativi delle agenzie, che dal punto di vista dei direttori della fotografia, dal punto di vista dei registi, dei montatori, di chi scriverà una musica per questo film e tutte queste cose. Come fai a essere genialmente creativo H24? Chi riesce è un mostro, io non sono così, per niente. Cos'è che vorresti fosse inventato a livello proprio tecnologico che ti risolverebbe un po' di guai? Abbiamo già talmente tante cose che forse dovrei cominciare a imparare a usare tutte quelle che ci sono prima di chiedere di inventare. No, perché se inventassero di nuovo qualcosa di più tecnologicamente avanzato il mio gap sarebbe ancora più ampio, capito? Quindi in questo momento se avessi 18 anni ti risponderei diversamente, comincio ad avere i capelli bianchi, quindi ti dico boh per me va bene così, con quello che ho è più che sufficiente, non mi interessa, mi perderei. E se hai ancora un sogno nel cassetto? C'è qualcosa che ti è rimasto? A livello del mio lavoro? Qualcosa che vorresti fare? No, i sogni nel cassetto non finiscono mai, non penso che ci sia la possibilità di arrivare a svuotare il cassetto dei desideri, sarebbe come dire rinunciare alla vita forse, non lo so, è una cosa che mi è venuta in mente così adesso, ma il sogno nel cassetto a livello professionale sicuramente di continuare a fare questo lavoro finché sentirò la voglia di farlo, io la voglia di farlo ce l'ho ancora, il mercato sta cambiando, alla mia età si lavora meno perché ci sono giustamente un sacco di giovani che stanno prendendo quota, quindi è giusto che sia così. Il mio sogno nel cassetto è di finire in maniera coerente il mio lavoro senza commettere errori, proseguendo nel percorso che mi sono sempre proposto di fare, nulla di più, non ho ambizioni di tipo Oscar o cinema o film, sì se mi chiamassero per un film sale è contentissimo, forse la pubblicità in questo momento ha perso un po' del suo charme e del fascino che aveva nei confronti dell'edettore della fotografia di una volta, anche perché il direttore della fotografia è sempre meno libero, il tipo di fotografia ti viene imposto, il tipo di color che devi fare ti viene imposto, spessissimo non la fai tu ma la fanno i creativi delle agenzie, quindi non è una critica, è la constatazione di un fatto, di un processo che è cambiato, quindi il direttore della fotografia non è più padrone del proprio mestiere, non lo è più, molto poco, se prima era 100 adesso siamo a 30, perché ci sono troppe persone che stanno cercando di fare in modo che questo mestiere venga controllato da pochi, perché è più comodo, perché è molto più comodo. A me se dicono guarda il color la fa l'agenzia, dico benissimo, una volta avrei combattuto, adesso mi domando perché devo combattere, questo è il meccanismo che si va davanti così. C'è una categoria di film che ti piacerebbe fotografare? Di film di lungometraggi, cioè sei più fantascienza? No, per esempio io ho dei film che mi sono rimasti proprio dentro, uno era un film molto semplice, io sono sempre stato un accellino sostenitore della fotografia che non si vede, per me è una buona fotografia, una fotografia eccellente a meno che non sia Star Wars o che non sia un film di questo tipo, ma è la fotografia che non si vede. Quando ti sembra che un film sia stato girato quasi sempre con la luce naturale e che la fotografia non ha picchi altisonanti, io trovo che quella sia la fotografia giusta, perché è come ritornando allo discorso che facevamo prima, è l'amalgama perfetto tra il lavoro del direttore della fotografia, il regista, la storia, la troupe, vuol dire che c'è stata armonia, allora secondo me è il film dove veramente vedi le palle di un direttore della fotografia, Un cuore in inverno che è un film francese, io amo molto il cinema francese, sono bravissimo a fare il film secondo me, Un cuore in inverno è un film fantastico, poi c'è stato per esempio un altro film che io ho trovato sperimentale, fantastico, la cui fotografia era di Vittorio Storaro che era One from the Heart, un sogno lungo un giorno, che un film che hanno visto probabilmente in otto, di fatti Coppola è fallito dopo quel film, avevano ricostruito Las Vegas in teatro utilizzando i neon, i primi neon colorati e Storaro per quanto ripeto io non ami molto il personaggio ma ami molto il suo modo di lavorare, Storaro ha fatto, in quel film secondo me c'è una fotografia straordinaria, c'è una scena in cui queste due persone si ritrovano dopo una notte in Las Vegas in cui si sono perse, si ritrovano di fronte all'altro, ognuno ha fatto quello che doveva fare e poi si ritrovano e c'è questa specie di larga vetrata dietro di loro con delle tende e a un certo punto loro si guardano e credo che uno alla fine dica ma io alla fine ho scoperto che amo ancora te, che io ti amo molti, su questa parola la luce diventa rossa, entra questa luce rossa abbagliante dalle finestre, cambia tutto, lì ci sono dei colpi di creatività tecnica che sicuramente sono al servizio della storia, non sono fini a se stessi, lì c'è proprio uno studio, Storaro ha tirato fuori secondo me è la genialità del suo modo di lavorare, come conformista, Apocalypse Now certo, Apocalypse Now ragazzi c'è una fotografia, io tra l'altro ho avuto la fortuna di lavorare con Salvatore Cozzupoli che era la persona che stampava i giornalieri a Storaro, mi raccontava un po' di cose, è stata un'esperienza divertente, però grandi film, ma mi piace quel genere di film, io non amo i film d'azione, fantascienza, no, mi piacciono molto le storie normali Mio padre costruisce i violini, fa il liutaio e dice sempre, cioè che un buon violino fatto bene è quel violino perfetto di cui non senti la fatica di chi ha creato quella perfezione là, no? Porca, tosta, stare dietro a sta roba è dura, ti senti subito in dovere di dire, oddio, oddio, no però bello, affermazione fantastica, e comunque ci sono, concettualmente io non so come dire, la fotografia alla fine ci metti sempre delle cose tue, c'è una frase di un fotografo famoso che diceva che nella fotografia che tu fai metti i libri che hai letto, la musica che hai ascoltato, le donne che hai amato, i dispiaceri che hai avuto, i posti che hai visitato, e questo è fare il direttore della fotografia, non è imparare usare il menù di una Sony, non è quello, una cremuccia. Corticelli invece ha chiuso l'intervista dicendo la fotografia è luce, tempo, soldi. Sì, perché è giusto, io non sono mai stato così lucido, ho sempre vissuto con grande agio l'aspetto romantico del mio lavoro come se fosse un buon paio di ciabatte usate che ti metti la sera quando torni a casa, no no preferisco moltissimo l'aspetto romantico del nostro lavoro, poi dopo la razio usciamo di qua, andiamo a prendere un progetto e sappiamo che ci sono 10k, 20k, 50k, 3 giorni, 2 giorni, 5 macchinisti, no un macchinista, 3 elettricisti, no un elettricista, voglio la Phantom, no ti diamo al massimo la Lex a 200 fotogrammi, poi c'è tempo, denaro, soldi, però alla fine questo è un mestiere che fai col cuore, non fai con la tecnica. Se non hai cuore non fai il mestiere, potrai diventare, puoi diventare un ottimo direttore della fotografia, assolutamente, tutti arriviamo, basta sapere settare le macchine, avere conoscenza della luce, sapere che luci ci sono, sapere le differenze tra le temperature e colore, fare tutte queste cose, a questo punto ci arriviamo tutti, poi tutti li si fermano, è lì che bisogna andare avanti, è lì che devi veramente abbandonare in modo ascetico tutto quello che è tecnica e cominciare a lavorare su che cos'è un'emozione, di come mettere una luce, tu quando metti una luce devi dare un'emozione, devi comunicare qualcosa, tu non puoi parlare e dire mentre il film è in onda guardate che bella luce che ho fatto, la finestra, c'è la tua luce, la gente deve percepire attraverso quella luce è un'emozione, il momento in cui tu vedrai che la gente percepisce quello che hai fatto e si emoziona, magari neanche pensando che c'era un direttore della fotografia, ma si emoziona vedendo quel film dicendo bel film, hai vinto. Luca, grazie infinite, è stato veramente un piacere. All'inizio pensavo neanche che registraste perché siamo partiti a chiacchierare. Guarda, il bello di queste chiacchierate è un po' questo. Beh diciamo che se ti aspettavo un'intervista tecnica com'è? No guarda, io spingo molto la cultura di tutto quello che c'è dietro, della parte più emozionale, di questa parte qua. Al Microsarro ho incontrato tanti ragazzi che mi hanno fermato per ringraziarmi di questa divulgazione e uno mi ha detto tipo, Luca ma fai domande un po' più tecniche. No, no. Ci sono i tutorial. No. Domande tecniche ci sono i tutorial. Nessuno meglio di chi ha inventato quella macchina ti può dire che cos'è quella macchina. Perché te lo devo dire io? Io ti posso dire adoro la Black Magic. Io adesso a scuola abbiamo le Sony, le F7, quelle cazzo di macchine con dei menu che quando li apri devi essere laureato in ingegneria nucleare. E ho fatto comprare le Black Magic, le Ursa 4K6. Hanno una pasta meravigliosa, hanno un menu intuitivo semplice con lo screen. Ti metti, fai quel cazzo che vuoi. Sono leggere, abbastanza ergonomiche, costano poco. Io ci ho girato un lungometraggio con la Ursa Mini Pro 4.6. In Raw 3 a 1. L'estate scorsa. E adesso sta girando i festival e inizia a portarsi a casa un po' di tempo. Eh, beh, ragazzi è così. La tecnica è quella. Io quando vedo le robe dove ci sono queste complicazioni tecniche su… Io divento pazzo quando vado a girare le robe di Tabletop io ho il Bolt che è collegato a un computer. Poi c'è un ragazzo che lavora con me che fa gli effetti speciali che ha un altro computer con 12 canali con una centralina che muove 12 sganciatori diversi. Cioè io posso lanciare 12 robe per aria e farle arrivare nello stesso punto al centesimo di secondo, al millesimo di secondo, calcolando il peso specifico, l'abbattimento della gravità e tutte queste robe qua. E quando lo vedo che programma queste robe io dico cazzo io non farei mai quel disco che è neanche morto. Ma ringrazio il cielo di aver trovato questo disgraziato che sei immolato in questa roba. e che mi sento la ricetta? Voi, vedi. Voi, vedi, vedi, vedi. 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 Grazie.